La notizia che speravamo di non dovervi dare è arrivata. Il virus è in Italia. È arrivato come? Come avevamo già detto, come avevamo già previsto, dalla Cina. Una persona è arrivata dalla Cina, sana, ma era in periodo di incubazione, è andata a cena con un italiano e l'ha infettato. L'italiano ha infettato altre due persone. Quindi, prima di tutto, questo ci fa capire quanto fossero sbagliate alcune declamazioni tranquillizzanti di certi politici nei giorni scorsi. Non bisogna prendere questa cosa alla Carlona e la quarantena delle persone che tornano dalla Cina è l'unico modo di bloccare l'arrivo di questo virus. Arrivo ulteriore, perché oramai sicuramente un virus c'è. Seconda cosa, dobbiamo tentare di far sì che da questi primi casi non ne nasca una cantina di contagi. Per questo seguiamo le indicazioni, sperando che questa volta i politici non si abbandonino alla solita faciloneria tranquillizzante che caratterizza anche alcuni virologi della domenica che pensano di capire tutto di virologia dopo al massimo un esame che hanno sostenuto nel secondo anno. Gli esperti dicono questo da tempo, gli esperti indipendenti e quindi niente panico, però prudenza e attenzione. È un piccolo passo che il virus è riuscito a fare, ma non dobbiamo concedergliene altri.